Ora invece ci occupiamo di ciclismo perché c'è stato un importante riconoscimento per la tappa tutta abruzzese dell'ultimo Giro d'Italia, la Castel di Sangro Campo Felice. Ebbene, lo sterrato proprio di Campo Felice, state vedendo proprio l'arrivo con la vittoria di Bernal al secondo posto Giulio Ciccone, è stato premiato al concorso Giro d'Italia Awards come la più spettacolare dell'intera Corsa Rosa edizione 2021. Il riconoscimento è stato votato all'unanimità dal pubblico sui social e appunto lo sterrato di Campo Felice è risultato al primo posto. Lo sterrato di Campo Felice ha gareggiato contro altri agguerriti, agguerrite località come le strade bianche del Brunello di Montalcino, la salita di Sega di Ala e la salita all'Alpe Motta. Lo sterrato di Campo Felice insomma è già uno dei luoghi più attrattivi del turismo alla scoperta dell'Abruzzo.